Il networking è la parola chiave per l'internazionalizzazione del domani. Il networking è tutto quello che permette alla nostra aggregazione imprenditoriale di poter affrontare mercati diversamente inaffrontabili, inavvicinabili dal punto di vista del singolo. La partnership è la struttura, il cappello sotto il quale tutto questo deve evidentemente costituirsi e formarsi. Una partnership può essere anche una partnership istituzionale, anzi più delle volte deve essere una partnership istituzionale da cui puoi dare mandato a quelle che sono delle partnership di tipo operativo, di tipo imprenditoriale, di tipo manageriale. Quindi queste sono le due fasi a mio avviso indissolubili e tra loro interrelate per un corretto approccio ai mercati internazionali. Diversamente credo che data la competitività che noi stiamo avendo in questo momento nel mondo, sia essa principalmente asiatica ma anche eventualmente di altre provenienze. Non dimentichiamoci che sono paesi assolutamente nuovi che si stanno sempre di più avvicinando al nostro territorio, al nostro vento, al nostro paese con un'aggressività importante. Non possiamo non potenziare quella che è il concetto di rete, intesa come interrelazione tra imprese, ma di intelligenza, di cultura, di società e di capacità manageriale.